allora pezzettino poi prima asola aprendola quindi non sovrapposta sinistra a destra è buona seconda asola sempre aperta terza aperta la quarta faccio più piccola la blocco così poi faccio sto lavoro qua così nasconde i punti e diventa più carino se non ci passa con la cucitrice ovviamente la giro e poi taglio 10 cm quello che voglio possibilmente sempre il neuronale e ogni fiocco pronto